Domattina alle 10.30 nella sala conferenze di Parazzadorno saranno presentati i risultati territoriali di EPA, il progetto Environmental Park realizzato nell'ambito del programma Interreg Grecia Italia 2007-2013 e Live Your Town realizzato nell'ambito del programma di due progetti europei che puntano allo sviluppo del turismo sostenibile e alla sua destagionalizzazione attraverso la valorizzazione e promozione dei parchi e delle aree naturali. Il progetto vede come partner principale la provincia di Lecce, mentre come partner le province di Bari e Brindisi. Per parte greca ci sono le regioni delle isole Ioniche, la regione dell'Epiro, quella Western Greece. Per il progetto Live Your Town capofila è l'ONG ricerca e cooperazione, partner da parte italiana invece la provincia di Lecce, l'area marina protetta di Torre Guaceto, parco regionale naturale Dune Costiere. Le principali novità presentate riguardano l'utilizzo di Beacon, piccoli dispositivi che attraverso la tecnologia Bluetooth trasmettono informazioni a smartphone e tablet ed il nuovo servizio di trasporto con bus ecologici che trasporteranno turisti e visitatori direttamente nei parchi e nelle aree protette del Salento con a bordo una guida naturalistica abilitata. In Italia i parchi e le aree protette interessate dai due progetti comunitari sono la riserva naturale statale delle Cesine, quella naturale orientata a Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo, il parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, così come il parco naturale Costa d'Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, il parco naturale regionale Litorale di Ugento, quello di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, il parco naturale Isola di Sant'Andrea Litorale di Punta Pizzo, insieme alle aree marine protette di Porto Cesareo e Torre Guaceto, il parco regionale naturale Dune Costiere, riserva naturale regionale Laghi di Conversano ed infine il parco naturale di Lama Belice.